Cronaca, politica, economia, sport e spettacoli. Sulla nuova TV, le news in tempo reale dalla Basilicata. Alle 7.20 il nostro buongiorno con la nuova mattina. 20 minuti di informazione con ultime news, meteo, rassegna stampa e rubriche. L'informazione ritorna sulla nuova TV con il Tg delle 13.50, i principali fatti del giorno in 30 minuti con ampio focus su tutte le discipline sportive lucane. Nuovo aggiornamento di cronaca, politica, economia e spettacoli nel Tg delle 19. Alle 22.50 l'ultima finestra informativa con la quarta edizione del nostro telegiornale regionale. Le news in tempo reale sono sulla nuova TV.